La vostra consulta è morta. All'ira bisogna rispondere solo con l'ira. Tu otterrai giustizia. Scenderò a Zon con una squadra con tre obiettivi. Trovare Jinx. Smantellare lo Shimmer. E neutralizzare i soggetti ancora fedeli a Silco. Mia sorella non c'è più. E questo deve finire. Jinx! Finalmente il nome giusto. Sorella. Il nome d'Investito. Il nome d'Investito. Un appartamento. Voglio chiamare! Il nome di Nile Scolino.